Seguici su Bike Show TV, il primo canale sul grande ciclismo. Il personaggio Paola Pezza, per noi è un grandissimo orgoglio, soprattutto anche per me. Lo diciamo per chi ancora non se lo ricordasse, due medaglie d'oro ai giochi olimpici, una doppietta strepitosa in mountain bike specialità cross-camp. Se facciamo l'elenco Coppe del Mondo? Ne ho vinta una nel 1997 e 15 prove in totale. Mondiali? Due. Due mondiali? Due europei? Tre europei. Due olimpiadi? Quelli più importanti. Campionati italiani? Ne ho 4-5 e poi ho sempre lasciato anche alle altre che si godevano con questa maglia tricolore. Perché lei non è una cannibala? No, ha stracciato tutti, ha vinto tutto. Bike Show TV, canale Sky 866, sul satellite Hotbird 13 S, frequenza 12 149.